L'importante è sapere che ci sono. Il sacrificio di Kinga a cura di Wubi. Il prete rispose che lei era stata sottoposta a un'influenza di secondo grado. Aggiunse che quello era il tempo in cui solo in Italia il satanismo aveva centinaia di migliaia di proseliti e l'influenza malefica di cui era stata vittima era una naturale conseguenza del satanismo. Ma se le influenze di secondo e terzo grado erano fatte in grande numero non significava che bisognava lasciare operare i satanisti e che si doveva rimanere indifferenti. Noi però non sappiamo chi sono i satanisti, mentì Anna. L'importante non è sapere chi sono, rispose l'esorcista. L'importante è sapere che ci sono e operare con rituali opposti, cioè con la magia bianca, cioè con la preghiera. Perché fra i tanti milioni di persone che hanno sofferto a causa sua non c'è stato mai nessuno che per esempio ha fatto una fattura a Hitler, chiese Anna. Chissà in quanti l'hanno fatta, disse il prete, ma dalla legge non era previsto che Hitler cessasse di essere tale prima del tempo. Hitler aveva una precisa funzione storica, era cioè un anticristo e perciò doveva fare il dispensatore di morte e di dolore. Anche l'anticristo di adesso, che è il terrorismo, sta ottenendo ottimi risultati, visto ad esempio l'incidente aereo dell'altro giorno. Mi sembra che negli ultimi tempi non sia stato solo quell'aereo a cadere, disse Anna. Come fa l'anticristo a creare tutti questi disastri? Mette le bombe che poi le autorità non denunciano per non lasciare gli aerei deserti e continuerà a farlo sino alla fine del regno di questo anticristo. I vari anticristi sono il risultato di una umanità ancora inevoluta. Sono il risultato storico, sociale, politico e direi anche economico, oltre che spirituale, di tutta una cultura e di una mentalità che deve finire. Il terrorismo è venuto per farci comprendere che questo regno deve finire. Anna allora fu certa che quello dell'anticristo era il regno cui credeva Gerry e che lui era ancora di più un anticristo, poiché era il vice capo della polizia.